Musica Parliamo ancora di jazz per presentare il quarto ed ultimo concerto del cartellone jazz per l'appunto del Teatro Verti di Pordenone il 14 maggio e di scena Omar Sosa, questa volta in Sestetto si chiude così una stagione molto importante per il Teatro Verdi con il jazz certamente protagonista e all'interno di questo cartellone grande attenzione al pianoforte tra l'altro come tutti sapete abbiamo a disposizione uno splendido fazzioli in teatro infatti tre dei protagonisti sono pianisti il primo la superstar Herbie Hancock è stato il grande evento di apertura della stagione musicale il secondo è stato Uri Kane pianista molto amato in Italia ma soprattutto in Friuli Venezia Giulia dove ritorna e come fa a non ritornare e come si fa a non reinvitare un pianista così straordinario così disponibile così multiforme invitato un anno con l'orchestra sinfonica e l'anno dopo appunto in piano solo a rivisitare dalla musica antica di Bach ai Beatles in uno straordinario concerto senza soluzione di continuità tranne appunto il terzo concerto che ha avuto come protagonista Petra Magoni e Ferruccio Spinetti in questo inedito progetto orchestrale con la FVG Mitteleuropa Orchestra pianisti ed è pianista tra i più grandi anche Omar Sosa Omar Sosa in sestetto presenterà un progetto che si chiama EGUN The Afri Electric Experience noi sappiamo che Sosa è anch'esso pianista abbastanza multiforme un musicista che certamente trascende le categorie non possiamo parlare di un jazz puro un jazz certamente globale, contaminato non stilisticamente unico che celebra le diversità delle anime sia dell'America sia dell'Africa e il mito della diaspora africana è molto caro a questo musicista la sua tensione, la sua idea di mettere insieme Caraibi con America Latina e Africa è un suo punto di riferimento costante questo progetto discografico nasce da una commissione il Festival Jazz di Barcellona due o tre anni fa gli chiede di comporre un tributo a quel grandissimo lavoro Kind of Blue di Miles Davis nel cinquantesimo anniversario della registrazione di quel mitico ormai disco e allora Sosa coglie l'occasione per affermare ancora una volta quanto dicevamo prima e intitola questo lavoro EGUN che è una parola che significa nella pratica spirituale IFA una pratica molto comune nell'Africa occidentale e anche molto comune nelle diverse espressioni della diaspora africana lo intitola EGUN proprio perché EGUN sono gli spiriti di coloro che ci hanno lasciati sia i nostri familiari sia quelli che rappresentano le nostre guide spirituali in questo senso quindi un lavoro che vuol rendere omaggio alla diaspora africana ai musicisti che erano, che oggi ci sono e agli spiriti nostri che ci saranno e agli spiriti nostri che ci sono